Ciao amici, come va? Come state? Oggi sono molto felice ed ho una novità per voi perché è arrivata, mi è arrivata a casa la mia prima glossy box, questa bellissima scatolina rosa che ho già aperto. Volevo aprirla con voi per fare una cosa, però non ho resistito, la prossima l'apriremo insieme. Questa glossy box l'ho comprata due o tre giorni fa, è arrivata subito, stavo guardando il sito di glossy box e ho pensato di fare questo abbonamento. Praticamente che cos'è la glossy box? È come la Mimi box, quella scatola che mi arrivava dalla Corea e ho fatto diversi video sulla Mimi box che mi piaceva anche tanto. Quindi è una sorta di abbonamento, questa costa sui 10 pounds, siccome io ho fatto un abbonamento di tre mesi, non mi costa 10 pound al mese, ma mi costa sugli 8 pound e qualcosa al mese. Ogni mese mi arriverà una glossy box. È una scatolina con 5 prodotti di bellezza. Sono full size e naturalmente non si possono scegliere, è come la Mimi box, non si possono scegliere questi prodotti, quelli che loro decidono di inviarti, insomma potrai provare. Prima di sottoscrivere l'abbonamento ho dovuto compilare un form dove mi chiedevano che tipo di pelle avessi, il colore degli occhi, il colore dei capelli, il colore della pelle, quali prodotti usassi solitamente. Questo per tracciare un mio profilo, così per inviarmi dei prodotti ad hoc. Per esempio nella prossima scatolina, quella di novembre, ci saranno dei rossetti. E quindi loro già mi hanno mandato una mail per capire che tipo di rossetto volessi provare. Io ho chiesto un rossetto sul rosa, si poteva scegliere il rosso, il nude, rosa, un altro colore che non mi ricordo, mi sa il marrone, il marrone è molto scuro ma non mi piace. E quindi ho scelto un rosa e vedremo insomma la prossima glossy box. Ma adesso subito vi faccio vedere quello che ho trovato in questa, sono veramente contenta di aver sottoscritto questo abbonamento perché mi mancavano troppo queste box. Quando è finito il servizio di Mimi box, che purtroppo Mimi box mi piaceva tanto perché i prodotti che stanno nella Mimi box sono veramente full size ma sono delle belle size, sono grandi. Ed era una bella sorpresa trovare appunto queste belle scatole dalla Corea piene di cose strane, curiose. Ma comunque anche questa Mimi box promette bene perché ho visto l'elenco di tutti i brand che trattano e sono appunto marchi famosi, mi sembrano dei buoni prodotti. Comunque non mi parlo in chiacchiere, comincio subito a farvi vedere questa scatolina. Faccio vedere cosa c'è dentro. Qui c'è il logo, si presenta tutta bella impacchettata, c'è anche un fiocchettino qui che crea tutto il pacchetto carino e questi sono i prodotti. Dentro la scatola c'erano anche tutti questi foglietti e fogliettini. Sicuramente c'è un foglietto qui che mi dà il benvenuto. Poi questo che è praticamente un elenco di tutti i prodotti che ci sono dentro con una descrizione. Questa qui invece è una glossy box, una prossima glossy box in una special edition con tutti i prodotti della Nars e quindi loro mi invitano a comprarla. Qui mi dicono che c'è uno sconto, invece di 35 pound questa la pago 30 se la voglio, non lo so, ci penserò. E questo invece, scusate la mia voce ma sono stata raffreddatissima, ho anche ancora il raffreddore, ho ancora il mal di gola. Questo qui, questa è una pubblicità di Zalando, il negozio online di vestiti e se compro qualcosa qui ho 10 pound di sconto. E vabbè, grazie. Vediamo i prodotti. Ho detto che sono tutte full size, naturalmente sono un pochino delle taglie che mi sembrano, sì sono full size ma sono un pochino più piccole rispetto alle cose che mi arrivavano dalla Corea. Comunque sono contenta perché ci sono delle cose che volevo comprare e mi sono arrivate quindi mi hanno letto nel pensiero. Sempre c'è la spugnetta, questa qui, la beauty, la spugnetta quella la blending sponge che serve appunto per permettere il fondotinta. Questa è una cosa che mi interessava volevo comprarla perché non l'ho mai presa e mi hanno letto nel pensiero perché è pure il colore che volevo quindi ok, la proverò. Poi c'è questa che è una crema per il viso di quelle idratanti ed è appunto specifica per questo momento, questo periodo dell'anno. Infatti questa è una mini box diciamo autunnale e infatti io volevo comprare una nuova crema idratante e proverò insomma questa qui di questa marca, Talica, Talica, non so però avevo letto alcune review di questi prodotti e quindi la proverò sicuramente. Qui c'è invece una questa è una matitina di quelle, se riesco ad aprire, oddio scusate stop un attimo poi riprendo ok sono riuscita ad aprire ed è una matita di quelle colore, un colore molto chiaro, va bene come illuminante ed è va bene anche nell'interno dell'occhio, adesso non riesco ad aprirla. Qua ho fatto uno swatch, vedete è molto molto chiara ed è molto pastosa quindi la proverò anche questa con piacere perché ne avevo una di Neve Cosmetic di questo colore, però l'ho lasciata in Italia, quindi sono felice di avere questa, di aver ricevuto questa questa matitina. Ok andiamo avanti, vi faccio vedere il resto. Allora, questo qui è un mascara ed è un mascara che promette delle ciglia, come le promette queste ciglia, vediamo un po'. Fairy Lashes Mascara, Karl, quindi dovrebbe provare, dovrebbe dare volume. Dice che non qui in questo in questo mascara non sono presenti oli minerali, è ipologenico, non comedogenico e si può mettere con le lenti, si può portare con le lenti a contatto, insomma sembra un buon mascara. Vediamo com'è la confezione, se riesco ad aprire questi pacchettini, proprio facile, con una mano sola e oltretutto io non amo rompere i pacchetti, quindi questo è molto complicato, forse devo fare pulco. Ecco qua, questo è il packaging, un rosso bordeaux, si chiama Jelly Pong Pong Fairy Lashes Mascara. Vediamo vedere dentro com'è l'applicatore. Questo è l'applicatore, non è di quelli di plastica, quindi boh, mi sa che mi piace, perché a me quelli di plastica e di silicone non piacciono tanto. E quindi niente, è un bel nero. E vabbè, quindi fantastico, un altro mascara va sempre bene. L'ultima cosa è questa crema, l'Anolips, ed è una crema per le mani, in questo periodo la crema per le mani va benissimo. E inoltre questa è una crema, c'è scritto, con anti-bacterial, quindi c'è la protezione contro i batteri, ne ammazza il 99% di questi germi. E niente, questo è indispensabile in questo periodo, questa c'è dentro l'anolina e l'aloe. Pare che questo tipo di crema sia molto amata qui in Inglaterra, questo brand che io non conoscevo. E niente, quindi sono contenta perché io le uso, le creme per le mani, uso anche delle maschere carine per le mani che ho trovato qua, magari ve le farò vedere. E questa vabbè, non è una confezione di quelle enormi e ingombranti, quindi è carina da portare nella borsa, quindi all'occorrenza usare. Poi c'è il logo di questa pecorella, vabbè, mi sa che non si vede, non me lo metto a fuoco. Scusate, ho avuto una telefonata, va bene. Quindi niente, dicevo che questa è una cremetta per le mani, quindi proverò tutti questi prodottini. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete vi piace, se volete sapere qualcos'altro rispetto a questa glossy box, chiedetemi pure. So che la glossy box c'era anche in Italia, però adesso il servizio è stato sospeso. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! Allora, come succedeva per la Mimi Box, anche qui su questo cartoncino dove ci sono le descrizioni dei prodotti, ci sono anche i prezzi di questi prodotti, per farvi capire quanto si risparmia con questo abbonamento. Quindi per esempio questa qui, la crema per il viso, in verità costa 24,85 pound. La crema, questa è qui, la spugnetta per il viso, costa 6,50 pound. Il mascara, eccolo qua, il mascara sta invece 17,95 pound. E la matitina, dove sta scritto, la matitina costa 15 pound. E invece la cremetta questa per le mani, che è una cremetta che ho scoperto australiana, sarebbe 8 pound e 99 si può comprare da Boots, quindi se la volete comprare da Boots anche online. Quindi niente, devo dire che effettivamente è un bel risparmio, sono proprio contenta di questa grossi box.